Qui in Germania con il corso online di ipnosi ho avuto molto successo ma con questo successo sono anche arrivate molte critiche e quindi in questo video voglio chiarire un po' di cose che comunque sono anche valide per i corsi italiani La prima domanda a cui vorrei rispondere è Si può imparare ipnosi online? Allora la mia risposta è sì e no Nel senso che un ragazzino può guardare oggi un video su youtube e imparare certe induzioni ma questo non vuol dire che allora è pronto, è preparato per andare a lavorare con dei clienti poi non so in uno studio o a fare anche magari ipnosi da show Vuol dire che ha solo imparato una parte molto molto piccola dell'ipnosi ma che non ha niente a che vedere con l'ipnosi professionale Perché? Perché imparare l'ipnosi non è imparare solo le induzioni Allora io faccio così, ti guardo così e quindi crolli No, non è questo, imparare l'ipnosi significa soprattutto imparare a rapportarsi con le persone a tutto quello che c'è prima della possibile induzione e tutto quello che si fa durante la trans, il periodo di trans e tutto quello che si fa dopo la trans Poi anche questo è uno schema che vi ho messo così che non sempre così va perché a volte ci sono sedute che sono solo basate su ipnosi conversazionale quindi dove è basata solo sulla conversazione e quindi c'è molto molto da imparare Poi mi è stato chiesto, ma allora uno che fa tutti i tuoi corsi poi cosa fa? Può lavorare con tutti i temi, con tutti i temi di tutte le persone basta che uno fai i tuoi corsi, ma allora viene uno che ha la depressione puoi lavorare con lui, viene uno che ha dolori puoi lavorare con lui No, nei miei corsi online ma anche live mostro più di quello che tu probabilmente userai o troverai di fronte a te nel tuo percorso se per esempio vuoi solo diventare un coach oppure se vuoi solo fare ipnosi da show però per me è importante che tu sappia se tu lavori con l'ipnosi avrai forse a che fare con delle problematiche che possono venire su semplicemente perché durante la trans una persona ha l'accesso a tutte le sue più profonde emozioni che erano magari fino a quel giorno nascoste quindi per me è importante mostrarti di più perché tu sappia ci sono tante tante cose che potrebbero succedere anche un po' per, diciamo per farti chiaro se tu veramente vuoi lavorare con l'ipnosi sappi, non sarà semplicemente ah faccio peng e le persone sono via, sono rilassate e quindi anche un po' per dire stai attento, se vuoi imparare l'ipnosi seriamente è importante che tu abbia ben chiaro che possono succedere delle cose dove tu devi sapere come reagire poi se tu decidi di semplicemente fare ipnosi da show o vuoi essere un coach a seconda delle leggi però che ci sono nel tuo paese lo dico perché non tutti quelli che guardano questi video sono tedeschi o italiani a seconda delle leggi nel tuo paese potrai o potrai non fare certe cose io comunque ti consiglio più studi meglio è se tu vuoi lavorare con le persone seriamente devi conoscere la psicologia devi sapere cos'è terapia devi sapere cos'è psichiatria io in Germania ho un titolo che mi permette di lavorare in questo modo un titolo che ha a che fare con la psichiatria ho studiato tutto quello che ha a che fare con la psichiatria questo è il titolo che io ho che è live pratiche per psicoterapia ma non ho fatto solo questo ho fatto anche altri corsi ho imparato psicoterapia e non solo psichiatria ho imparato la neurolinguistica eccetera eccetera il fatto che tu abbia accesso a queste informazioni non significa che tu allora automaticamente puoi lavorare con chiunque a tutti i suoi problemi devi stare molto attento grazie